un saluto a tutti da snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su pubg in questo video che ho registrato ieri è stata la razza avere una grandissima partita ha fatto anche una kill secondo me fantastica quindi vi auguro buona visione ci vediamo dopo solito shooting range non tradisce mai ok 2mp c'è c'è anche l'm16 ok sono già a posto armi solo uno scar potrebbe migliorare la cosa zainetto zainetto dove stai zainetto ecco ti vai tirbi abbiamo trovato il silenziatore usiamo una moto per prendere un'altra moto luttatina rapidissima in cerca di cure che riusciamo ad ottenere niente il calcio un bel quick e un paio di munizioni che non fanno mai male dai non è stato malissimo ricordi torri dai 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 recupera dopo dai dai a tutta passiamo la bolla oh cazzo oh cazzo cazzo a tutta a tutta allora magari riusciamo arrivare via li vorrò andiamo di qua siamo in mezzo alla strada arriviamo a queste cose qua ci fermiamo un po già tutto luttato allora ci vendiamo un bel painkiller acqua è tutto luttato che palle allora io direi di prendere la moto e andarcene tipo al centro ok vai dove lo butti? dove lo butti? dove lo butti? non lo butti? non lo butti? o l'ha già buttata? è la buttata laggiù la minchia lontanissima è pesante con la moto non lo butti? no 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 Grazie per la visione E' là sopra Dai che approfittiamo Come va a luttare ce li facciamo tutti e due Vai cazzo Si 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 E dai sali cazzo Sali 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 Ah che bello Allora Zainer 3 Il gruza Buttiamo via questo Extended Basta così Va bene Un buon furto Saliamo un po' su questa collina Va vediamo No no nemmeno un mirino Dalla distanza Oh cazzo Mi sembrava ci fosse qualcuno Undici C'ha undici medipack Allora un bel mirino per quattro E buttiamo via questo Quanto invece meglio questo Oh un quick super E a sto punto ci provo Con la jeep Provo a correre velocissimo Allì verso il centro piccolo È un azzardo Ci provo Devo trovare una cazzo di casetta Allora beviamoci Tutto il bevibile Perché qua Servirà Tutto il bevibile Ok Qua dentro Non ci dovrebbe essere Nessuno Di qua Eccone qua Uno Che arriva Andiamo Andiamo un po' dove Oh c'è uno lì dentro Oh c'è uno lì dentro Andiamo un po' dove Andiamo un po' Andiamo un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai, 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 via, 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 via. Via, 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 via. Tra la live, uno sta qua sopra sicuro. So qua. 41. Da qua in giro a qualche parte. Deve venire qua. Deve venire per forza. E l'ho ucciso, dai. Dove sta? Eccolo. GG. 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 Gli ho proprio du-du-du-du-du-du-du-du mini. Iscrivetevi, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.